Noi dell'Ottica DR ci prendiamo cura dei vostri occhi attraverso servizi come controllo della capacità visiva con tecnologie all'avanguardia, centraggio computerizzato per lenti progressive, montaggio e riparazione degli occhiali in sede. Siamo centro specializzato delle lenti che correggono e rallentano la miopia. Vieni in negozio a scoprire la vasta scelta di occhiali da sole e da vista. Ottica DR, il tuo punto di vista esclusivo.